Laminati Mastella L'azienda nata nel 1979 vanta un'esperienza più che ventennale nella realizzazione di stampi in alluminio. Ci occupiamo sia di fusioni che di prodotti di fonderia presso fusione. Produciamo stampi per il settore meccanico, calzaturiero, stampi per presso fusioni e per il confezionamento alimentare. Inoltre, sempre nel settore calzature, usiamo leghi di alluminio unispecifiche per la fusione di stampi PU, PVC, TR, gomma, bicolore e F-tricolore, stampi per suole, sandali in eva, con accoppiatura di stampo e coperchio tutto plastic e forme in sabbia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.